Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Ines Di Giorgio. Ad Ines, nostra assidua telespettatrice e da anni punto di riferimento della ditta Campopiano nella zona industriale di Campobasso e al marito Giovanni Battista Baldoni, vanno naturalmente gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Basket femminile di Serie A2. Le partite. Alguero Civitanova Marche, Bologna Empoli, Campobasso La Molisana, Carri Spezia, Cestistica Spezzina, Faenza Orvieto, Forlì Savona, Roma San Raffaele Cagliari, San Giovanni Valdarno, Palermo Andros, Riposa Umbertide. Domani si torna al Palavazzieri. La Molisana Basket Campobasso alle 18.30 ospita La Spezia. Obiettivo playoff matematici per la Molisana Basket Campobasso. Domani al Palavazzieri le rosso-blu ospiteranno La Spezia. Anche le Liguri, già certe della fase post-season, hanno due punti di vantaggio rispetto alle Molisane. Attenzione però al risultato di Forlì, che domani, ma alle 20.30 ospiterà La Savonese. Si spera in un eventuale palso-falso del Savona, ironia della sorte, prossima avversaria delle Magnolie nel turno infrasettimanale di mercoledì. Ma le motivazioni per la squadra di coach Sabatelli sono tante. Archiviare playoff, la voglia di dare continuità dopo il successo di San Giovanni Valdarno e riscattare il capo dell'andata rimediato in Liguria. Forse la battuta d'arresto più brutta in questa stagione. Questione infermeria. Torna nelle rotazioni anche l'ala Laura Reani, pronta a dare il suo cambio, seppur a mezzo servizio. Torna dopo l'esperienza azzurra Lala Ciavarella, che a crema è stata impegnata nel progetto federale Ragazze in Tiro, appuntamento focalizzato ad un lavoro specifico sul principale, fondamentale e offensivo. La Spezia arriva in Molise ancora senza il suo pivò lusitano Gomez da Silva, fuori già da quattro turni, ma può contare su cadoni, lingua glossa e innocenzi, che rappresentano elementi in grado di fare la voce grossa in fase realizzativa. In settimana lo staff tecnico ha lavorato sulla difesa, bisogna mantenere alta la concentrazione e concedere poche scelte in attacco. Per la fase offensiva ci vorrà il giusto equilibrio tra gioco interno ed esterno, per riuscire a prendere sempre tiri ad alta percentuale. La molisana basket a campo basso La Spezia sarà arbitrata da Marco Leggiero di Lecce e da Donato Davide Nonna di Casamassima, provincia di Bari. Squadre sul parquet alle 18.30. In serie B, meno due al termine della regular season, domani il Globo alle 18 sarà impegnato sul parquet del Cassino e domenica il Venafro spiderà il Patti. In Cisilver ralvia la terza fase delle gare post-season nei quarti dei play-off. L'Aerino Basket Termolo affronterà l'Aquila, si parte domenica al Palas a Betta con palla due alle 19.00. Giovedì prossimo gara due in Abruzzo e poi l'eventuale gara tre domenica 22 in Molise. Adesso il calcio a cinque di serie B. Calcio a cinque serie B, girone F, Chaminade, CLN, Cusmo Lise, Futsal, Canosa, Sagittario, Pratola, Futsal, Capurso, Altamura, Giovinazzo, Manfredonia, Real, Dem, Ruvo, Tombesi, Atletico, Cassano. Sarà giornata rosso-blu al Palas Selvapiana per il derby tra Chaminade e CLN, Cusmo Lise. Ultima giornata nel torneo di serie B di Futsal, il più classico derby cittadino calamita le attenzioni dello sport molisano. Sicuramente domani pomeriggio al Palas Selvapiana, ma in scena l'evento sportivo di maggior rilievo nella nostra regione. Chaminade e CLN, Cusmo Lise in campo non solo per lo scettro cittadino, ma anche per chiudere al meglio la regular season. Esatto, perché in casa Chaminade l'obiettivo play-off è già realtà da una settimana, mentre il CLN Cusmo Lise ha bisogno di un successo per avere la certezza del quinto posto. Partiamo dai rosso-blu. La società del presidente Scarnata ha scritto già la storia sabato scorso. Il successo a Ruvo ha certificato l'accesso matematico ai play-off in quarta posizione. Un traguardo di assoluto prestigio per il rosso-blu, capaci di lottare al pari delle prime della classe per tutta la stagione. Il coronamento di una stagione esaltante sin dalle prime giornate di campionato. Come detto, un traguardo, ma non un punto di arrivo, considerato che oltre il derby ci sarà la semifinale play-off contro il Sagittario Pratola. A questo punto sognare non costa nulla, anche perché, come sempre, sarà il parquet di gioco a dare il risponso definitivo. Dunque, complimenti alla Chaminade tutta, dalla società allo staff tecnico e logistico, sino ai giocatori. Tornando al derby, le motivazioni dei ragazzi di Pizzuto potrebbero essere leggermente in rimbasso con l'obiettivo in tasca. Il derby, però, è una gara a sé e siamo certi che sarà un match giocato al massimo. In casa CLN Cusmo Lise, l'unica strada per avere la certezza del quinto posto è quella di battere la Chaminade. Più uno sul Manfredonia impegnato domani a Giovinazzo. Anche qui, match complicato, ma, come detto, per dipendere solamente da se stessi, il team del presidente dell'OMO ha bisogno dei tre punti. Al contrario, bisognerà vedere il risultato delle due squadre pugliesi. Quinto posto raggiunto da due giornate, un risultato impensabile per il CLN, se consideriamo il cammino durante tutto il torneo. Nel girone di ritorno, con 5-6 elementi meno rispetto all'andata, la squadra è riuscita a fare nettamente meglio. In ultimo, anche la defezione di Gioao Alonso, rientrato in patria, per motivi familiari. Insomma, davvero un plauso anche al CLN, che vede più che mai la possibilità concreta di poter festeggiare un risultato sportivo incredibile. Inoltre, la sfida nella sfida tra i due bomber Caruso e Barrichello. 34 reti per il ragazzo Campobassano, 32 per il classe 95 Brasiliano. Sono loro due a comandare nettamente la classifica Cannonieri. Due ragazzi che si sono messi in luce trascinando le rispettive squadre a suon di gol nel corso di tutta la stagione. Dunque, appuntamento a domani pomeriggio. Ore 16, Pala Selvapiana, atteso il pubblico delle grandi occasioni. Adesso le grafiche di C2. Calcio a cinque serie C2, ventiduesima giornata. Cassiopea, Frosolone, Castel del Giudice, Five, Rocca, Ravindola, Montagano, Petrella, Montorio, Nefrentani, Montes, Vinchiaturo, Riccia, Fuzzal, Collia, Volturno, Sestese, Pietra, Fuzzal. In C1, domani è in programma la finale playoff. Il Venafro alle 15 ospiterà la Sestese. Mountain Bike, domenica doppio appuntamento per gli atleti della Molise Tour Bike. Genarelli, Bontempo, Pirosanto, Bettini e Annacone saranno impegnati nella Marathon del Salento. Seconda tappa del circuito Parchi Naturali. Altri saranno sulla linea di partenza della prima tappa dell'Abruzzo-Cap-Moscufo. Esordio assoluto per Casertano, Di Biase, Oriente, Serafini e Marino. Calcio di serie D in campo per la trentunesima. Le Molisane preparano entrambe una trasferta. Matelica a Campobasso di domenica prossima è una partita di fondamentale importanza perché abbraccia due sfere diverse. Da un lato quella per la promozione in Lega Pro. Il giocatore Tonelli del Matelica ha dichiarato che vanno vinte tutte e quattro le partite residue. Dall'altro lato il Campobasso ha un vantaggio risicabile sulla zona play-out e si augura di prendere proprio nelle marche il punto salvezza della stagione. Il nuovo tecnico del Campobasso non deve registrare defezioni di sorta ed è ipotizzabile che non vada a sconvolgere l'impianto tattico voluto finora da Foglia Manzillo. Un 3-5-2 schierato tutto l'anno dall'ex tecnico del Campobasso soltanto per la breve ed infelice parentesi di Masecchia si è virato verso il 4-3-3. Uscire indenni da Matelica porterebbe grosso giovamento per classifica e morale specialmente quest'ultimo aspetto è davvero sotto i tacchi dopo 5 K.O. consecutivi. In generale fra i tifosi rosso-blu regna una discreta preoccupazione sia per il raggiungimento della salvezza che per ciò che potrà essere a bocce ferme dopo la minaccia dell'attuale proprietà di salutare tutti e girare i tacchi a fine campionato. Andrà verificata anche la situazione finanziaria della stessa società al 30 di giugno. Altre vertenze che sembrano destinate a trasformarsi in scomoda realtà potrebbero aggravare il quadro economico del Campobasso. Altre e remote vertenze, alcune di queste non saldate risalgono al 2016-2017. Di sicuro il tempo non cancella i debiti, anzi questi vengono costantemente a galla con una certa costanza. A proposito della vicenda legata all'albergo presunto non pagato dalla società rosso-blu a Pescina nei pressi di Avezzano in occasione appunto della trasferta in Abruzzo, il Campobasso questa mattina ha fatto la seguente puntualizzazione. Il bonifico indirizzato alla struttura ricettiva è stato stornato dalla banca dell'ordinante, recito il comunicato, in quanto la fattura non era intestata alla società Costruzione Generali, sponsor del Campobasso, bensì alla stessa società rosso-blu. Nel comunicato la società mostra anche la ricevuta del bonifico effettuato a favore dell'albergo nel giorno 29 marzo alle ore 10 e 13. il Campobasso ritiene che tale notizia abbia violato la privacy della società stessa e danneggiato l'immagine, pertanto decide di agire per vie legali nei confronti appunto dei soggetti che hanno danneggiato l'immagine della società. Entrambe le molisane, torniamo a parlare di calcio, temono che si possa riaprire il primo play-out, tanto per capirci quello che oggi non si giocherebbe a causa degli otto punti esatti fra Agnone e Monticelli. Siamo al limite, già con un punto in meno lo spareggio salvezza si disputerebbe inesorabilmente e allora la ricetta unica che possono attuare le molisane di quarta serie per fugare le paure è quella di provare a vincere. L'Olimpia agnonese battendo la Iesina domenica darebbe una specie di colpo di grazia ai marchigiani. Insomma, Iesina agnonese che andrà in scena domenica al Carotti ha già un suo particolare sapore di spareggio o forse no, perché proprio il 22 aprile prossimo il Monticelli di Nico Stallone sarà ospite degli altomolisani e allora forse potrà essere quest'ultimo il vero spareggio per la permanenza in Serie D. Anche Di Meo potrebbe riproporre un 11 molto vicino a quello che ha impattato contro il Pesaro. In forte dubbio il difensore classe 99 Labua che ha un risentimento muscolare. L'Olimpia sarà seguita da un gruppo di tifosi che saliranno nelle Marche nella provincia di Ancona in una gara chiave per i destini Granata. La salvezza è ancora appesa ad un filo e va conquistata nei prossimi 360 minuti. Un'affermazione che in questo momento unisce le stagioni sia del Campobasso che dell'Olimpia agnonese. Il settore giovanile scolastico della FIGC festeggia il 120esimo anniversario con una serie di eventi calcistici e solidali riservati a tutti i bambini delle categorie piccoli amici e primi calci 5-9 anni. In Molise il coordinatore federale Gianfranco Piano per l'occasione ha organizzato una manifestazione che si svolgerà domenica 15 aprile in Piazza Municipio dalle ore 10 alle 12 a Campobasso. Calcio regionale tre giornate al termine dei campionati d'eccellenza e promozione è tempo di verdetti i 9 punti rimasti a disposizione sono quelli decisivi per definire il proprio destino stagionale 13esima giornata del girone del ritorno 28esima stagionale domani il Vasto Girardi sarà ospite della LIFE squadra in campo alle 16 obiettivi agli antipodi per le due formazioni da un lato la vice capolista che dista tre lunghezze dall'Isernia in caso di parità punti il Vasto Girardi sarebbe promosso grazie al doppio successo negli scontri diretti i gialloblu devono vincere e attendere il risultato del poce di Riccia dove sarà impegnata domenica l'Isernia ma attenzione alla LIFE oggi inserito nella griglia play out la salvezza può passare uscendo dalla zona rossa o puntando allo sbarramento Michele Molinaroli di Piacenza arbitro dei 90 minuti dello spinelli di Alife il Campobasso 1919 già retrocesso farà visita al sesto campano padrone di casa con un più uno dalla griglia play out per i sestoresi doppio turno interno domani il Campobasso 1919 sabato prossimo arriverà il Venafro per chiudere la stagione a Riccia Gianmarco Meo della sezione di Sernia designato per sesto campano Campobasso 1919 scendendo in promozione il Mattese matematicamente promosso sabato scorso a Baranello prepara la festa interna domani arriva il Carovilli in piena griglia play out con l'obiettivo di migliorare il piazzamento e puntare a disputare le gare post season con il favore del campo arbitro della gara Davide Mastroianni di Sernia doppio turno interno per il Molise dopo aver ospitato il Pietramonte Corvino domani farà gli onori di casa al Casanovo Monte Rotaro già retrocesso la squadra di Maurizio Mitro a più sede a play out ha bisogno di quei punti per archiviare la questione salvezza diretta a dirigere 90 minuti Francesco Vitale di Sernia l'Isernia si prepara a far visita al Riccia Sabatino una differenza che ha l'Isernia in più rispetto al Vastro Girardi se c'è ma in più abbiamo tre punti abbiamo perso due scontri diretti alla fine abbiamo fatto bene con il restante raggruppamento e alla fine ci teniamo stretti questi tre punti sapendo che abbiamo anche un altro margine d'errore un pareggio e lo porteremo a casa fino alla fine ci ha insegnato questo campionato che nessun risultato è pronosticabile ogni weekend ci può essere la sorpresa ora voi aspettate lo scontro con il Riccia con la Liffe e con il Termoli e insomma anche loro non sono esenti da sorprese in campo sì alla fine andremo a Riccia e sarà una partita difficile da affrontare loro sono una squadra secondo me forte ben messa in campo e soprattutto molto tecnica andremo lì per fare la partita come abbiamo fatto finora cercando di portare a casa i tre punti e alla fine per sperare che le ultime due finali ci portano a questo obiettivo due turni decisamente impegnativi per il Riccia dopo la vice capolista Vasto Girardi è tempo di affrontare la prima della classe Luca Pellegrino terzino dell'Olimpia Riccia insomma un Riccia prossima partita arriva un altro avversario di rilievo perché ormai si gioca soltanto per decidere sia la salvezza che il salto di categoria diretto arriva l'Isernia in settimana sarà fondamentale soprattutto recuperare qualcuno e poi prepararla al meglio recuperare qualcuno soprattutto recuperare dal punto di vista mentale anche perché non è semplice poi venire da una sconvitta come il 3-0 e poi pensare di preparare una partita anche importante con l'Isernia con una squadra organizzata bisogna riprendersi immediatamente e pensare alla partita di domenico abbiamo visto con l'avvento di Cordone sono cambiate non poco le cose ora insomma tralasciando poi la partita con il Vasto Girardi quella che verrà anche con l'Isernia c'è stato il pareggio quello col Boiano dove c'è stata anche una grande reazione perché se non erro avete ripreso due volte la partita sì 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 comunque la mano di mister Cordone si è vista anche perché abbiamo fatto 5-6 vittorie di fila non ricordo comunque ci siamo organizzati e avevamo un'idea di gioco e quello è l'importante comunque credo che si sia visto anche in campo poi ovviamente nel nostro piccolo cerchiamo di ottenere l'obiettivo nostro e quindi di ottenere il primo possibile la salvezza il Termoli ospiterà il Boiano giallorossi chiamate a fare i punti per sperare di giocare i playoff Iasinco Paiolo centrocampista del Termoli tu stai giocando anche con una certa continuità hai sordito qualche settimana fa sabato scorso hai giocato titolare contro il Treppini sei entrato contro la Frendani insomma ti stai ritagliando quello spazio di tempo tu per il pubblico monesano sei stato già conosciuto perché hai giocato anche a Montenero sì sì ho giocato a Montenero pure con altre squadre e c'è piano piano speriamo che andiamo più avanti e aggiungeremo la zona playoff e speriamo bene per il Termoli e per il mister per noi e per tutti quanti sei arrivato al campionato già avviato diciamo però c'è piano piano c'è il mister c'è il mister fa giocare piano piano con i ragazzi speriamo bene senti questa Frendani come l'hai vista? una squadra che cercava la salvezza è una squadra cattiva è una squadra che lotta e mena soprattutto è una buona squadra è una buona squadra Termoli che giocherà in casa con il Boiano domenica prossima l'occasione per potersi rifare assolutamente dobbiamo solo vingere solo tre punti dobbiamo solo vingere solo vingere per aggiungere diciamo zlopoli off e tu giocherai? speriamo per il Boiano tre finali in programma per cercare la salvezza diretta Usman Gomez per la lotta salvezza la strada è ancora lunga però il Boiano ci crede eh sì sì diciamo ti crede per salvezza quindi noi dobbiamo pensare per giocare la prossima partita vingerà tutta la partita per salvezza in questo campionato da quando sei arrivato a Boiano soddisfatto di come ti stai trovando e di quello che hai dato alla squadra? eh diciamo questa squadra sono buoni sono forti secondo me noi abbiamo connessiamo tutta la partita bene quindi la partita solo tre pareggiato per vincere e perdere la partita quindi noi abbiamo giocato tutta la partita per vincere la partita quindi noi non abbiamo fortuna per vincere tutta la partita quindi ora vediamo prossima partita per salvezza in questo campionato il campo di pietra a spinete per raggiungere punti per la permanenza in categoria Claudio Mignone allenatore in seconda del campo di pietra spinete guglionesi venafro queste le ultime tre fatiche del campo di pietra due trasferte una in casa contro il guglionesi però a questo punto si dovrà ragionare gara per gara si secondo un calcolo a noi ci serve una vittoria sperando di farla in casa con il guglionesi anche se poi la partita di spinete è aperta a tutti e tre i risultati chiaramente che anche loro sono messi male come noi devono anche loro lottare per un posto di play out noi stiamo un po' meglio di loro a livello di classifica però chiaramente una risultata c'è è la partita che ce la giocheremo a tutti e tre i risultati mentre con il guglionesi dovremmo fare il bottino pieno se vogliamo avere una salvezza tranquilla un'ultima cosa insomma è stato un giurone di ritorno che in qualche volta vi ha penalizzato insomma sul campo magari qualche scelta arbitrale qualche gol subito un po' in modo sfortunato però insomma andate avanti con la consapevolezza di lottare per questa salvezza diretta sì questo è una cosa che volevo dire cioè noi ogni domenica abbiamo puntualmente penalizzati da rigori non concessi domenica scorsa a Gammatese c'era uno solare su Borrelli l'hanno visto tutti gli sportivi non c'è stato concesso e secondo me anche oggi ce n'era uno grossissimo dove l'albitro Matarrese ha preferito non dare rigore ma una punizione dal limite che poi abbiamo preso il palo io dico purtroppo non per penalizzare gli albi però siamo penalizzati noi non ci concedono rigori che possono fare cambiare la partita il volto della partita in promozione già promosso il Matese Luca Gentile dell'FVP Matese arriva a questa promozione in eccellenza con tre giornate di anticipo festeggiamo siamo contenti non immaginavamo nemmeno di essere promossi in eccellenza quest'anno le premesse non erano quelle di fare un campionato di vertice però ci siamo dimostrati forti perché dalla prima giornata sino all'ultima siamo stati in testa decisi e convinti di ciò che volevamo fare ci abbiamo creduto e oggi festeggiamo Qual è infatti il momento della stagione in cui avete iniziato a crederci che non era più un sogno quando ormai la salvezza era raggiunta? Io penso il mio pensiero che la partita svolta fu l'1-0 fu ricasa a Carovilli in una partita difficile in un campo difficile avversario difficile erano duri e l'abbiamo spuntata all'ultimo minuto e lì abbiamo detto vai ce la possiamo fare Quindi adesso si prepara il finale di stagione potete puntare ovviamente al primato in classifica definitiva ma guardando già l'anno prossimo ci sono tre squadri in eccellenza di cui due voi e l'altra squadra di Piedimonte e il derby cittadino quindi davvero un'eccellenza storica per la vostra zona Beh sì storica per noi però noi siamo inesperti affronteremo il campionato per la prima volta nella storia della nostra società il Treppini è una grande società potente che da anni milita nei campionati di promozione ha una dirigenza solida noi faremo il nostro umile campionato come abbiamo fatto anche quest'anno uniti tutti quanti insieme Speriamo di fare belle cose anche l'eccellenza Obiettivo raggiunto per il Castel Mauro che ha archiviato la salvezza Marco Messore giocatore del Castel Mauro è una salvezza risicata quella del Castel Mauro perché tecnicamente avete bisogno di un altro punto ma almeno quest'anno l'avete blindata da subito Sì almeno questo perché io è il primo anno che sono qui da quello che ho visto perché ci ho giocato contro e da quello che mi hanno detto i compagni di squadra gli altri anni è stata una salvezza comunque raggiunta le ultime partite o addirittura anche disputando il play out quest'anno siamo arrivati a un punto dall'Ururi a un punto dallo scontro diretto e purtroppo abbiamo abbiamo anche disputato una buona partita anche se è stata una sconfitta che ci ha un attimo ridimensionati per i play off e quindi salvezza diciamo tranquilla raggiunta ancora non matematicamente perché bisogna vedere anche che cosa ha fatto il quattro Torri Chieuti questa è insomma la situazione l'approccio mentale non è quello che dovrebbe essere per una squadra che deve assolutamente vincere la partita la posta in pari insomma la stagione del Molise è stata caratterizzata dai tanti gol messi a segno da Bangura Omar Bangura attaccante del Molise hai segnato un altro gol e sono 25 in stagione non ti vuoi fermare più no non ci vuoi fermare più non ti vuoi fermare no però i difensori ti fanno molti falli ti tirano molti calci per fermarti sì è così è calcio così loro lo sanno che cosa io voglio fare per fare un gol non puoi per qualcosa di dire l'obiettivo ormai è arrivato vi siete quasi salvati 33 punti era il minimo che potete fare sì adesso noi siamo già salvati quindi va bene così adesso l'anno prossimo ti faccio una domanda tutti quanti ti vogliono dove vorresti andare puoi rispondere sinceramente cosa vuoi fare l'anno prossimo adesso prima l'estate poi l'anno prossimo dove vorresti giocare in D? l'anno prossimo non lo so dipende non lo so chi ti ha chiamato sincero chi ti ha chiamato qualche società già? no ancora no non ci crediamo no ancora no ancora no l'ultimo obiettivo che ti poni è arrivare a 30 gol vuoi arrivare a 30 gol hai tre partite per fare 5 gol sì l'anno scusa 32 quindi cosa hanno? speriamo sì arrivo a 30 l'ultima cosa però il mister Mitro ha detto che devi rimanere qua dipende come dipende è capito pattinaggio la stagione agonistica del centro sportivo Campobasso prosegue con il campionato regionale di corsa su pista in programma domenica al pattinodromo di Martinsicuro 18 gli atleti molisani che prenderanno parte alla competizione in rappresentanza delle categorie giovanissimi 2009-2010 esordienti ragazzi 2007-2008 ragazzi 12 anni ragazzi 2004-2005 e juniors bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio